Il giorno dopo l'incendio nella palazzina del villaggio del sole di via Weilsaizer 88 si presenta con uno scenario agli antipodi di quello della giornata di lunedì. Le camionette dei pompieri hanno lasciato il posto solo a una vettura di Aterudine con i funzionari a continuare i sopralluoghi per l'integrità della struttura. I residenti della Scala B ovviamente non ci sono più lì ad aspettare perché gli appartamenti sono inagibili fino a nuova comunicazione ed è possibile solo accordarsi per recuperare gli effetti personali. Funzionari Ater che raccolgono anche qualche segnalazione come magari quella di una signora della palazzina di fronte preoccupata per il gatto della persona gravemente ferita nell'esplosione. Il signore che è stato ricoverato ha un gatto bianco. Ieri i pompieri hanno salvato due gatti ma ho paura che quando sono entrati lui fosse nascosto e che sia rimasto dentro. Tutto lì. Ho avvisato il servizio emergenza Ater, hanno detto che verificheranno. Difficile stabilire quando anche gli abitanti della Scala B oltre a quelli della Scala A potranno tornare nelle loro case. L'assistenza per loro continua a essere in corso ma il tutto verrà ripristinato quando la soglia di pericolo sarà pari a zero e per questo l'orizzonte temporale resta al momento difficile da decifrare visto che c'è da controllare anche l'integrità di un solaio. Continua però come detto l'operazione di recupero di effetti personali che nella mattinata di martedì ha vissuto un momento particolare. Mentre eravamo lì nell'esterna per collegamenti infatti è arrivata un'ambulanza per trasportare in ospedale per accertamenti un residente della Scala B che era entrato per recuperare gli effetti personali di prima necessità accusando un malore. Nulla di grave, chissà forse un contraccolpo nel vedere la propria casa nerita e tutto risolto con un soccorso arrivato prontamente e le operazioni di bonifica ripristino dell'immobile che continuano da parte di Ater e Vigili del Fuoco.